Ignazio Il primo è dedicato alla musica di Franco Battiato con? Con Fabio Cinti, Alessandro Russo, Fabio Cinti cantante, cantautore e anche filosofo di spessore artistico musicale elevato, storico collaboratore di Franco Battiato che ci intratterrà con la sua musica e con i suoi pezzi del repertorio dell'artista siciliano. E poi ci sarà un momento anche dedicato alla letteratura, più esattamente alla biografia, la biografia più autorevole che in questo momento c'è del grande Franco Battiato, biografia scritta dallo scrittore Guido Guerrera, giornalista e scrittore che vive a Prato, che conosce Franco Battiato dagli anni 90, che ha una produzione letteraria su Franco Battiato abbastanza importante con quattro pubblicazioni al riguardo e già forse ci sarà anche l'ultimo che ancora non è uscito. Bene, bene. È un altro momento che è dedicato invece alla produzione artistica di Franco Battiato legata alla nostra lingua siciliana, al nostro patrimonio immateriale e questa parte verrà curata dal professore Peppino Restifo. Infatti ci saranno nella scaletta dei brani musicali due brani di Battiato relativi alla lingua siciliana. Tutto questo è stato pensato dall'Associazione Culturale RB e dal Chivanis che rispettivamente rappresentiamo qui adesso e ha uno scopo ben preciso, quello di poter mettere insieme la musica, la letteratura, la nostra identità siciliana e la solidarietà. Infatti tutto l'incasso verrà dato a tre associazioni, a tre realtà importanti del nostro territorio che sono CIRS, ABC e Emergency. Anzi, devo dire al riguardo che dobbiamo ringraziare gli sponsor che ci hanno consentito, con il loro contributo, di poter utilizzare l'intero incasso della serata in beneficenza perché gli sponsor non sono riusciti a coprire i costi della manifestazione. Dice bene Ignazio perché grazie al loro generoso contributo effettivamente noi possiamo dare, noi tutti insieme, anche voi con l'acquisto del vostro biglietto potete dare un contributo a queste tre realtà che si distinguono nel territorio. Un grazie particolare va innanzitutto all'amministrazione comunale e all'associazione Auclis che hanno patrocinato in maniera fattiva l'organizzazione dell'evento e in particolare anche alla filarmonica Laudamo che è stata di una collaborazione altrettanto fattiva e interessante e ci ha concesso anche l'uso del pianoforte che verrà utilizzato nella serata dal cantante Fabio Cinti e dal pianista Alessandro Russo. Vi aspettiamo il 13 di marzo alle ore 11 e alle ore 20 e 30 per queste due repliche e vi aspettiamo numerosi, i biglietti li potete comprare al Bar Eden, alla Libreria Mondadori e alla Libreria Fentrinelli. Potete contribuire fattivamente a sostenere i progetti di queste tre associazioni e godervi della musica, della letteratura, del grande Franco Battiato. Grazie a tutti.